Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è stato rilasciato iOS 12.2 Beta 1 e allora andiamo a scoprire quali sono le principali novità di questo aggiornamento subito dopo la nostra sigla. Allora ragazzi eccoci qui come di consueto iOS 12.2 Beta 1 è stato già installato sul mio iPhone. Questo sfondo che vedete non è un nuovo sfondo di iOS 12.2, non sono cambiati gli sfondi però se vi piace il mio sfondo lo trovate all'interno del mio canale Telegram che potete raggiungere dal mio profilo Instagram che vi dico in questo momento in sovraimpressione. Per quanto riguarda le novità partiamo chiaramente dal vedere un attimino qual è la versione del software che come potete notare è chiaramente la 12.2. La build è quella lì, mi aspetto possa cambiare nei prossimi aggiornamenti perché chiaramente ci saranno altre versioni di iOS 12.2 Beta fino ad arrivare poi alla versione finale che potrebbe essere rilasciata verso marzo-aprile magari in concomitanza di un nuovo evento Apple. Andiamo però a scoprire le principali novità che erano già online sul nostro sito internet iPhoneItalia.com da qualche ora. La prima novità riguarda il supporto ad HomeKit TV. In sostanza con iOS 12.2 saremo in grado di controllare non solo le Apple TV ma anche di controllare direttamente da iPhone, iPad ed Apple Watch nonché da Mac le proprie TV collegate all'app casa. Ed è proprio questa una delle principali novità. Infatti adesso quando andiamo a trovare l'app casa o accediamo diciamo dalla schermata principale possiamo andare ad aggiungere anche delle TV compatibili. Tuttavia per il momento questa funzionalità non è ancora attiva perché mancano TV compatibili con HomeKit ma Apple ha promesso insomma una partnership intanto con Samsung ma poi anche con altri brand. Ciò che invece troviamo già in iOS 12.2 sono i controlli per HomeKit perché infatti se andiamo a premere qui sul pulsantino più possiamo, anzi no, se andiamo a premere sulla casetta possiamo andare a gestire da qui gli altoparlanti e le TV connesse. In precedenza questa funzione era attiva soltanto per gli altoparlanti invece adesso come vedete compare la voce TV. Possiamo quindi scegliere di controllare altoparlanti TV da parte di tutti gli utenti che si trovano in casa, da parte soltanto di coloro connessi alla stessa rete wifi domestica oppure solo le persone attive come partecipanti insomma all'abitazione all'interno dell'app casa. Un'altra novità riguarda il centro di controllo che adesso su tutti i dispositivi si arricchisce con una nuova schermata per il controllo remoto delle Apple TV. Infatti adesso questo remoto è molto più grande, come potete vedere ha un trackpad di dimensioni decisamente maggiorate ma non cambiano i controlli che sono gli stessi che troviamo sul remote della Apple TV. Quindi il tasto TV, il tasto per Siri per la ricerca vocale, il menu e poi il play pausa. Sempre nel centro di controllo forse avrete notato anche un'altra piccola differenza cioè l'icona della duplicazione schermo. Adesso mostra effettivamente due schermi poi non sono cambiate le funzionalità che sono sempre le stesse ma è cambiata appunto soltanto l'icona. Cambia anche l'icona di Airplay per quanto riguarda la riproduzione su cuffie o su Apple TV come in questo caso. Vedete c'è questo pulsantino blu completo mentre prima era soltanto trasparente diciamo è stata una piccola modifica che tra l'altro non compare quando si è connessi a qualsiasi prodotto Bluetooth ma sembra soltanto quando si è connessi a quelli dell'ecosistema Apple. Un'altra piccola modifica riguarda l'app Wallet che adesso quando apriamo la pagina dedicata ad una carta per Apple Pay troveremo in pratica sotto le ultime transazioni evidenziate un po' meglio rispetto al passato e qui possiamo andare appunto a vedere l'importo speso, il giorno in cui è avvenuta la transazione, il totale eccetera eccetera. E poi ci sono anche altre piccole modifiche come il tasto fine, il tasto delle opzioni e il tasto più per aggiungere nuove carte che adesso non solo sono tutti nella parte superiore ma sono realizzati in colore nero. Un'altra funzionalità carina riguarda Safari infatti quando andiamo a digitare un qualsiasi testo all'interno della ricerca adesso possiamo vedere qui le parole suggerite insomma possiamo andare a scoprire direttamente uno di questi contenuti basta premere appunto su uno di questi e veniamo rimandati istantaneamente a quella ricerca una funzione di completamente automatico molto utile che soprattutto ci velocizza le operazioni. E infine l'ultima novità riguarda mappe che però purtroppo non mostra almeno nella versione italiana questa caratteristica abbiamo una nuova opzione in mappe che permette di valutare l'indice di qualità dell'aria. Questo vuol dire che quando andremo a scoprire delle nuove location potremo non soltanto andare a leggere il meteo qui in basso all'interno dell'app ma anche proprio l'indice dell'aria quindi la qualità dell'aria che andremo a respirare. Però come vedete purtroppo questa funzione in Italia per il momento sembra non essere supportata. Quindi ragazzi queste erano le principali novità di iOS 12.2 beta 1 aggiornamento per il momento disponibile soltanto per gli sviluppatori ma probabilmente verrà rilasciata tra pochissimo una versione beta per tutti gli utenti iscritti al programma Apple Seed dell'azienda di Cupertina quindi potrete provarla anche voi molto rapidamente. Vi segnalo anche qualche leggero problema con Apple Pay che ogni tanto non sembra funzionare al 100% e come al solito vi invito anche a non scaricare la beta sul vostro dispositivo principale. Questo per me è un dispositivo test se non dovesse funzionare qualcosa so comunque come utilizzare il telefono o meglio so come utilizzare un telefono se voi avete soltanto un dispositivo vi sconsiglio insomma di installare questa beta. Ma per il momento è tutto io sono Andrea Cervone vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo video e noi ci risentiamo alla prossima ciao a tutti.